Sì, non è vero, non è vero. Questa c'è il piede, il gran piede. Il piede, il piede, il piede. E io mi dicevo ieri cosa. Aspetta, oh. Vai, vai, vai. E' un caldo. 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 E' una prova. Beh, una prova. Ma che è questo il granodoro? Un caldo. Un caldo è perfetto. Ma ti progetti. E' un caldo. Oh, se c'era la recetta. C'era la recetta. C'era la recetta. Eh, la sono fatti bellini. Sì. Altro che... Cenerentola. Cenerentola. Sfatti sigilli. Ottivamente anche fatti sigilli. Eh. E' illegale. Ora lo mettiamo anche agli altri. Se no sembra troppo mirati. No, sembra troppo mirati. Dovremmo andare a saccare quelli di Sala Rosa a Piazza Caribaldi. Quale? A Piazza Caribaldi. Dovremmo andare a saccare quelli di Villa Rosso. No, sto sbagliando. No, no. Vabbè andiamo a fare prima del suo. No, no. Se no è pericoloso. Ce l'ho, ce l'ho. No, no, no. 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 Che schifo. Mamma mia. Abbiamo sigarette, no, vero? No. Ma quello che basta in verto, Dario, non credo che era legato. No, perché non è. Ah, perché? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Quaggino il mare fiese, dennete? C'è chi? Che stai dovrà? Vi ce ne fischerò a unzio via? C'è chi? C'è chi? Quaggino il mare fiese? Ternete. No, no. Sì. E' una sola, un svegli. Una, la c'è la sola, ma come si fa? Siamo a me che siamo a una. Fai un malefetto se c'è noi che siamo a una. Che sei quello che pensi tu? Chi passa, forse. Ma se te ne hai mai mai una cosa, che è una mano. Ma non c'era, tu. Scusate perché il flessiale si è stato facendo. Ed è comunque il mio frate. sta chocando camera da Renato 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 camera da Renato